Giornata particolare, giornata emozionante perché oggi si ricorda una persona, un amico a noi care insomma che il destino ci ha voluto strappare però tentiamo di dare continuità a quello che era un suo obiettivo che era quello di dare una possibilità a questa terra era Gregorio una persona che oltre a spendersi per la sua azienda ovviamente si è speso molto per questo territorio e ha lavorato molto perché questa iniziativa, questo strumento che in qualche maniera tenta di portare sul mercato nuove idee, nuove imprese potesse avere un suo proseguimento. Oggi noi siamo qui a cercare di trovare il bando della matassa per poter proseguire in questa direzione e soprattutto perché si possa ricordare una persona a noi molto cara di elevato spessore che ha fatto tanto per questa terra e di cui questa terra ha tanto bisogno di persone che si possano spendere per questo territorio. Io credo che la Startup rappresenti non soltanto una bella idea per presentare le idee imprenditoriali soprattutto dei giovani ma debba rappresentare una sorta di nuova metodologia di lavoro. Noi stiamo cercando con il sistema industriale panermitano e siciliano di creare delle forti relazioni per dare ai nostri ragazzi la chiara consapevolezza che il titolo di studio, il percorso universitario non è soltanto il raggiungimento di un pezzo di carta ma può diventare una reale occasione, una reale possibilità per fare imprese. Quindi le belle idee che poi si traducono nelle tesi di laurea cercheremo in tutti i modi grazie all'aiuto dell'impresa e dell'industria siamo qua per questo, di trasformarle in attività imprenditoriali. La Sicilia ne ha bisogno in una logica sempre più corgente di cercare di tenere i nostri ragazzi al sud. Quindi anche questa è una di quelle iniziative su cui stiamo lavorando per mettere insieme il mondo dell'università e il mondo dell'impresa in un percorso comune, in una visione comune con l'obiettivo principale di trattenere i nostri ragazzi nelle nostre case, nei nostri ambienti ed evitare questa incredibile e pericolosissima emorragia di cervelli che non fa altro che depoperare il nostro capitano umano. Star Cup Palermo 2023 si è dedicata a Gregory, per me è un motivo di felicità e orgoglio ma soprattutto per lui. Gregory è sempre stato un uomo di sistema, un uomo che delle sue cariche istituzionali ne ha fatto un bene per la collettività. Oggi più che mai quello che si chiede agli imprenditori di essere pragmatici è di creare per certi aspetti anche molte sinergie. Gregory nel corso di questi anni ha fatto questo, ha lavorato tantissimo per il suo territorio. Non da meno nei mesi passati, prima che venisse a mancare, aveva realizzato quello splendido evento su Trapani dove ha fatto conoscere a tutti le eccellenze siciliane e questo è lo spirito che tutti noi imprenditori dovremmo avere. Star Cup Palermo 2023 è un'iniziativa che la nostra società ha ovviamente accolto, infatti noi siamo partner di questo progetto. Oggi più che mai noi imprenditori abbiamo bisogno di giovani talenti che sviluppino ovviamente creatività, progetti che cercano appunto di creare sviluppo nel nostro territorio, questo è l'aspetto più importante.